Droga, droga, non mi fanno stare bene. Nessun messaggio di scuse via social, ma pur una presa in giro di quanti hanno commentato con sdegno il videoclip rap, pieno zeppo di offesa alle donne, parolacce e gesti ingiuriosi, girato nel cimitero della guerra austro-ungarico di Aurisina, dove riposano i resti di 1934 soldati. Paolo Zamaro, in arte Sengs, leader del duo rap, ha invece preso in giro su Facebook i post di condanna del gesto e pure la posizione del sindaco che ha allertato i carabinieri di Aurisina. I militari hanno già identificato il 23enne triestino proprio attraverso i social e sono pronti ad agire, sentita la procura della Repubblica. Zamaro e il suo socio in arte rischiano la stessa pena a cui è stato condannato il rapper udinese Justin Obusu, che ballò, anche qui in un videoclip, sui gradoni del Sacrario di Redi Puglia. L'ipotesi di reato corrisponde all'articolo 408 del codice penale, vilipendio alla memoria dei defunti. Tra l'altro, ma questa è una notazione che potrebbero fare tutti, se il monumento isontino potrebbe magari essere confuso con altro, ovviamente da personaggi con poca vista e scarsa conoscenza storica, è praticamente impossibile dirlo per il cimitero sul Carso, dove anche un bimbo noterebbe le file di lapidi a forma di croce. Il rapper Friulano, insieme al collega Maria Antonio Piras di Latisana, fu condannato a otto mesi di carcere con la condizionale, a patto però di pagare 25.000 euro di danni morali. La sospensione condizionale della pena fu condizionata proprio a risarcimento della parte civile. Resta da capire però nel caso di Aurisina, se le frasi e le parole ingiuriose inserite nel testo possano costituire un ulteriore aggravante di pena in sede processuale.